Marchesini è un'impresa familiare fondata da Massimo Marchesini nel 1974 rappresenta 400 milioni di euro di fatturato il 90 per cento dei nostri ricavi sono nel settore farmaceutico il rimanente nel settore cosmetico e in entrambi i settori siamo leader nel mondo uno dei problemi che avevamo prima dell'introduzione degli smart glasses era il trasferimento delle informazioni molto spesso attraverso l'invio di un email o attraverso l'invio di materiale fotografico video o anche attraverso l'utilizzo del telefono non riuscivamo a comprendere qual era il problema e al tempo stesso non riuscivamo a trasmettere al nostro tecnico quale fossero le indicazioni giuste per poter risolvere il problema. Acti è una soluzione software con la quale è possibile effettuare assistenza remota attraverso video e attraverso funzioni innovative quale la realtà aumentata e consente a un tecnico che svolge un'attività presso l'azienda di effettuare e vedere con i suoi occhi ciò che accade sul campo e quindi aiutare un cliente o un collega nello svolgimento delle attività di assistenza. Abbiamo scelto Epson perché è una soluzione affidabile con la quale è possibile mettere nelle condizioni i nostri clienti di poter offrire servizi di assistenza remota attraverso questa nuova modalità delle mani libere, hands free. Utilizziamo questi occhiali attraverso un software che è quello di Acti che ci permette praticamente di interagire attraverso l'invio di documenti, l'invio di un video, di un'immagine, ma anche di interagire sull'immagine statica o sull'immagine movimento, indicando noi attraverso alcuni tag le azioni da fare o i punti chiave della macchina da toccare. Da quando abbiamo introdotto smart glasses e remote assistenza, i nostri tecnici hanno la possibilità di viaggiare in diversi paesi, a diversi clienti e sentire molto confidanti, perché sappiano che ogni volta che possono avere supporto di nostri headquarter e di nostri experti in Marchesini.